Musica Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Nell'ultima seduta l'Aula ha approvato a maggioranza il nuovo piano sociale regionale. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato con i 13 voti favorevoli della maggioranza, tre contrari, il consigliere De Vincenzi e i due consiglieri della Lega, Mancini e Fiorini, e quattro assenuti, Squarta, Ricci, Liberati e Carbonari, il nuovo piano sociale regionale, atto amministrativo che si integra con il piano sanitario per le prestazioni sociosanitarie. L'atto, illustrato in Aula dal Presidente della Terza Commissione Consiliare Attilio Solinas, presenta una ricognizione attualizzata sulla situazione del territorio regionale e alcuni elementi di novità riguardanti il monitoraggio sull'efficacia delle azioni messe in atto dalle zone sociali, protagoniste nell'attuazione delle linee dettate dalla regione e nel focalizzare meglio i bisogni dei vari territori, ribadita la centralità della persona e la volontà di offrire servizi con maggiore equità nei vari territori. Lo scenario è profondamente cambiato, ha spiegato in Aula l'assessore al welfare e coesione sociale Luca Barberini. Siamo più poveri, come dicono i dati del PIL, siamo un paese che invecchia sempre più, gli ultra 65 anni sono più di un quarto della popolazione e siamo una comunità alle prese con la fragilità del welfare familiare, che riscontriamo venire meno soprattutto in quelle zone dove i giovani sono costretti a spostarsi e la famiglia subisce questa disgregazione. Trovata anche la convergenza politica sull'assegno di sollievo che le famiglie potranno ricevere per scegliere direttamente a chi affidare i propri cari non autosufficienti, in alternativa ai servizi già esistenti. Via libera della seconda commissione al testo unico dell'agricoltura, la gestione del Banco della Terra all'Agenzia Forestale Regionale. Con quattro voti favorevoli, Brega, Leonelli, Smacchi del PD, Rometti e Socialisti, un asinuto Ricci del gruppo Ricci Presidente e due voti contrari, Fiorini, Lega Nord e Liberati, Movimento 5 Stelle, la seconda commissione presiduta da Eros Brega ha dato il via libera al disegno di legge della Giunta che modifica il testo unico in materia di agricoltura, legge regionale 12 del 2015, modifiche che riguardano sostanzialmente l'affidamento della gestione del Banco della Terra all'Agenzia Forestale Regionale e la soppressione della gratuità e delle agevolazioni precedentemente previste, misura che mira a garantire l'impiego produttivo dei terreni pubblici assegnati. Appurato che le modifiche disposte nella legge non produrranno alcun impatto di natura finanziaria sul bilancio regionale, è stato approvato un emendamento che prevede la collocazione della cifra derivante dai canoni di locazione o di concessione all'interno del bilancio regionale per il finanziamento della legge di istituzione dell'Afor. I relatori in aula saranno il presidente della commissione Eros Brega, per la maggioranza, Emanuele Fiorini, Lega Nord e Andrea Liberati, Movimento 5 Stelle, per le opposizioni. Da una prima ricognizione potrebbero essere messi a disposizione del Banco della Terra circa 360 ettari di terreni di proprietà regionale, dislocati nelle zone agrarie dell'Umbria ad un'altitudine che varia dai 650 agli 800 metri, e nell'ipotesi che tutti i terreni presi in considerazione, con le relative pertinenze, ricevessero il gradimento dei soggetti interessati, è stata simulata una proiezione economica dalla quale risulterebbe un introito complessivo annuo dai canoni di locazione o di concessione stimato in circa 35.000 euro. La seconda commissione dell'Assemblea Legislativa è tornata ad occuparsi della strategia energetico-ambientale. La strategia energetico-ambientale 2014-2020, predisposta dalla Giunta, è stata al centro dell'audizione convocata dal presidente della seconda commissione per raccogliere indicazioni e orientamenti dei soggetti interessati al documento, i rappresentanti dei comuni di Gualdo Cattaneo, Terni e Narni, Confindustria, Erg, Umpli e Will. Le priorità individuate dalla strategia, che ruota intorno alla riduzione dei consumi e all'incremento della produzione da fonti rinnovabili, sono risultate condivise dai relatori che hanno suggerito di prestare particolare attenzione alla riconversione della centrale Enel di Gualdo Cattaneo, all'efficientamento energetico in campo civile e industriale nei trasporti pubblici, all'ammodernamento dei grandi poli industriali per ridurre le emissioni in atmosfera, la possibilità di unire gli interventi di messa in sicurezza post-sisma a quelli di miglioramento energetico degli edifici, affrontando anche il tema dell'inquinamento legato all'utilizzo in Umbria di legna e pellet, in cammini e stufe a bassa efficienza. È stata inoltre evidenziata la necessità di chiarezza sulle regole e sui percorsi da seguire per gli interventi di efficientamento, l'opportunità di sperimentare interventi innovativi per agevolare il miglioramento energetico degli edifici, l'importanza di puntare maggiormente sulla ricerca di sistemi per l'immagazzinamento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Approvata in terza commissione la riforma della legge regionale sul diritto allo studio universitario. La terza commissione consigliare, presieduta da Attilio Solinas, ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza, Solinas, Rometti, Leonelli e Smacchi, e con l'astenzione dei consiglieri di opposizione De Vincenzi e Carbonari, il disegno di legge della Giunta che apporta modifiche alla legge regionale 6 del 2006 che detta le norme per la disciplina del diritto allo studio universitario. L'assessore regionale Antonio Bartolini ha detto che grazie alle modifiche effettuate e alla possibilità di impiegare fondi europei per gli apprendistati di terzo livello, vale a dire i dottorati e gli assegni di ricerca, la legge sul diritto allo studio universitario mette a disposizione non solo gli strumenti per studiare ma anche quelli per riuscire ad attuare quello che si è studiato. La di su potrà gestire le procedure dirette a finanziare la mobilità internazionale dei ricercatori, previste nella programmazione comunitaria, e la realizzazione, in collaborazione con le università, la rete dei centri per l'impiego, gli ordini professionali e le associazioni di categoria, di attività di orientamento e informazione volte ad assicurare il più stretto raccordo tra istruzione universitaria e terziaria e mercato del lavoro e fornirà anche un supporto qualificato per l'incentivazione dell'apprendistato, dell'alta formazione e della ricerca stessa presso il sistema delle imprese. Illustrato alla Commissione Speciale dell'Assemblea Legislativa, la Commissione di Inchiesta sulle infiltrazioni criminali, il report sugli appalti pubblici banditi nel 2016 dalla Regione Umbria. Tempi, modalità e criticità del sistema degli appalti pubblici, soprattutto nel periodo post-sisma, sono stati al centro dell'ultima seduta della Commissione di Inchiesta dell'Assemblea Legislativa su criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose. I lavori si sono concentrati sul report degli appalti pubblici banditi nel 2016 dalla Regione Umbria, illustrato ai consiglieri dalla dirigente Marina Balsamo. Dall'informativa è emerso che per affrontare il post-sisma è stata variata una normativa di deroga che prevede procedure aperte con tempi più rapidi e consente alle stazioni appaltanti di applicare la procedura negoziata, con almeno 5 ditte invitate, per le opere di urbanizzazione ed altri interventi urgenti. Per diminuire la discrezionalità nell'assegnazione dei lavori è stato deciso di invitare tutte le ditte che hanno la qualificazione per eseguire determinati lavori, un invito collettivo a manifestare interesse alla partecipazione da cui estrarre poi 5 o più aziende a cui viene chiesto di presentare un'offerta. Per le opere di urbanizzazione è stata invece scelta una procedura aperta, più onerosa e impegnativa, ma che garantisce la massima libertà di partecipazione all'appalto. Il presidente Leonelli ha concluso evidenziando che la commissione d'inchiesta deve continuare ad operare per garantire la massima trasparenza sulle normative e sulla loro applicazione, annunciando poi che nel mese di marzo ci saranno le audizioni con Carabinieri, Guardia di Finanza e con il procuratore generale della Repubblica, Fausto Caldella. Alternanza scuola-lavoro, una prima valutazione sul progetto a Palazzo Cesaroni, il convegno patrocinato dall'Assemblea Legislativa. L'alternanza scuola-lavoro rappresenta un tema importante per il mondo dell'istruzione, un'esperienza che nel corso del 2017 si è andata consolidando, facendo registrare impressioni e suggestioni differenti. Ed alcuni ragazzi hanno scelto proprio l'Assemblea Legislativa per questa attività. L'estensione della formula scuola-lavoro a tutti i gradi scolastici ha posto il problema di individuare luoghi idonei ad accogliere così tanti giovani studenti, garantendo loro un'esperienza formativa all'altezza delle aspettative. Lo ha detto la Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Donatella Porsi, aprendo i lavori del convegno alternanza scuola-lavoro perché e per chi che si è svolto a Palazzo Cesaroni. Tra i relatori il sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Vito De Filippo, che ha definito importantissimo il collegamento tra il mondo della scuola e quello delle professioni, dell'associazionismo, della pubblica amministrazione, perché ha detto sono gli ambiti ai quali si rivolge questa importante ed obbligatoria opzione della scuola italiana. L'ex ministro Giuseppe Fioroni ha puntato il dito sui ministri dell'istruzione perché ha detto spesso soffrono dismania da riforme che prescinde dalle reali condizioni della scuola, dimenticando le riforme precedenti. E sul progetto ha detto che l'alternanza scuola-lavoro ha un costo ed incontra difficoltà e condizioni molto differenti nelle diverse regioni italiane. Sabrina Buarelli, dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, ha definito importante il fatto che l'alternanza scuola-lavoro è per tutti, non più soltanto per i professionali, ma anche per i licei classici e scientifici. Per Claudio Gentili, vice direttore lavoro welfare capitale umano di Confindustria, ad oggi solo il 20% fa davvero alternanza scuola-lavoro. Questo progetto ha detto porta ad una svolta culturale perché si passa a una didattica per competenze e non per nozioni. Si abbattono le barriere tra scuola e impresa. Ed infine l'assessore regionale Antonio Bartolini, secondo il quale il progetto alternanza scuola-lavoro è centrale per garantire un contatto tra istruzione e realtà produttive. L'assessorato ha predisposto un accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale con Confindustria. I primi dati, ha detto l'assessore, sono confortanti e positive sono le esperienze basate sulla collaborazione tra scuole, imprese e istituzioni. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo, TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda in tutte le emittenti televisive della Regione, è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Grazie per l'attenzione, arrivederci.